Carissimi amici, benvenuti all'appuntamento con Autofrancia. Vi ricordo l'indirizzo, come sempre, Corso Francia 341 a Torino. Come sempre, tutta la gamma Fiat Alfenancia Jeep in pronta consegna, questo ormai lo sapete, è oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometri zero a vostra disposizione, con risparmio fino al 50% dal prezzo di listino. Ma quest'oggi volevamo soffermarci in modo particolare sulle offerte finanziarie, cioè sulle modalità di pagamento che Autofrancia ha riservato per tutti voi telespettatori. Chiaramente qui nessuno vi vieterà di fare il pagamento per contanti, questo ormai lo sapete, però c'è una grande novità, cioè il noleggio per privati, che quindi abbiamo dedicato per voi privati. Avete un'opportunità veramente incredibile, cioè di avere tutti i benefici del noleggio a lungo termine, ma avendo l'auto di vostra proprietà, questo è veramente un grande vantaggio. Ma la novità qual è? Che potete fare questo noleggio sulle autovetture chilometri zero e sulle autovetture aziendali, quindi macchine fino a due anni. Qui quindi questo vi consente di avere un canone mensile molto basso, perché risparmiate anche sull'acquisto dell'autovettura, perché l'autovettura, voi lo sapete, le nostre macchine sono super scontate fino al 50% dal prezzo di listino. Quindi partiamo già da un tetto, non dell'autovettura nuova, ma da un prezzo decisamente più basso, quindi con il risparmio che Autofrancia ha sempre riservato per voi. Quindi questo vi consente di avere i vantaggi del noleggio, però con un canone bassissimo molto molto basso. Infatti all'interno pensate che di questo canone avete servizi a 360 gradi, avete l'assicurazione furto incendio, atti vandalici, eventi naturali, sociopolitici, cristalli, pensate che avete anche la minicasco, quindi la collisione. Vi diamo cinque anni di garanzia a chilometraggio illimitato, all'interno avete anche i tagliandi per tutti e cinque gli anni. Il cambio gomme non ci pensate più, perché avete sia le gomme estive che le gomme invernali e la macchina di servizio gratuita in qualsiasi tipo di evento. Ancora una cosa, vi volevo dire che con il noleggio a lungo termine dedicato a privati, pensate che in caso di furto avete il valore a fattura per i primi quattro anni, quindi veramente zero, zero pensieri. Questo si chiama TTC zero pensieri, quindi tutto, tutto compreso, zero pensieri. Ma adesso restate con noi, ci trasferiamo nei padiglioni delle autovetture d'occasione aziendale a chilometri zero. Occhio perché abbiamo delle offerte veramente da non perdere. Eccoci, siamo nel primo salone delle autovetture d'occasione aziendale a chilometri zero. Verrete accolti subito da questa Alfa Giulia veramente spettacolare, 2002 turbodiesel 150 cavalli, solo 18.900 euro, volendo disponibile anche col cambio automatico a 20.900 euro. Pensate che qui volendo potete sfruttare il TTC zero pensieri, quindi la formula nuova che Autofrancia ha riservato per voi telespettatori, quindi fare noleggio a lungo termine per voi privati. Avete un costo di guida su questa autovettura a partire da 14 euro al giorno. 595, pista, 1.4 turbo, 165 cavalli, nuova a chilometri zero, regalata, solo 20.900 euro. Anche qui volendo potete anche usufruire del TTC zero pensieri, noleggio dedicato ai privati sulle autovetture d'occasione a chilometri zero. Hyundai i10, 1.000 login, nuova a chilometri zero, 11.400 euro. Le 500 aziendali a chilometri zero sono oltre 40 a vostra disposizione, i prezzi partono questo mese da 8.900 euro. Abbiamo le panda nuove chilometri zero e le panda aziendali. Le chilometri zero sono veramente un prezzo scontatissimo, potete anche sulle panda sfruttare il noleggio per privati, quindi il TTC zero pensieri e avete un costo di guida, pensate a partire da 6 euro giornalieri. Quindi il costo di guida cosa vuol dire? Che non dovete pensare a null'altro che pagare 6 euro e non avete più nulla e avete zero pensieri. Toyota Yaris 1000 Active 69 cavalli, nuova a chilometri zero, ve la proponiamo a 11.900 euro. Renault Twingo 900 TCE con impianto Eco-GPL, nuova a chilometri zero, 11.500 euro. Qui abbiamo un'altra Giulia, vedete, bellissima, un colore maranto veramente stupenda. Parliamo un attimo di Jeep Renegade, adesso fermiamoci un secondo. Questa è una Renegade 1000 T3 Longitude, nuova a chilometri zero con impianto Eco-GPL. Prezzo veramente fantastico, la proponiamo a 19.450 euro. Volendo anche qui potete sfruttare il TTC, il TTC tutto tutto compreso Autofrancia, avete un costo di guida giornaliero, pensate a partire da 15 euro giornalieri. Quindi servizi a 360 gradi con un costo veramente bassissimo. Hyundai X20, nuova a chilometri zero, solo 12.900 euro. Citroen C3, 5 porte, 1.6 HD, 75 cavalli, aziendale regalata a 10.900 euro. Abbiamo messo a vostra disposizione 5 Fiat Tipo, 1.6 turbodiesel, 120 cavalli station wagon, abbiamo sia le versioni lounge che le versioni business, quindi siamo al top della Tipo, sono aziendali, prezzo fantastico, pensate solo 11.900 euro. Anche qui potete usufruire del noleggio a lungo termine dedicato a voi privati, il TTC tutto tutto compreso Autofrancia con zero pensieri, avete quindi un canone mensile veramente bassissimo e un costo giornaliero di guida, quindi con zero pensieri, veramente bassissimo, a partire da 9 euro al giorno. Purtroppo siamo giunti in chiusura, avete visto solo alcune delle autovetture che abbiamo a vostra disposizione, consultate il nostro sito autofrancia.it o meglio ancora veniteci a trovare, perché siamo aperti 7 giorni su 7, anche il sabato e la domenica. Avete visto anche alcuni esempi sul noleggio dedicato a voi privati, che abbiamo fatto appunto di là, avete visto sulla Tipo, sulla Panda, quindi che avete un costo giornaliero veramente bassissimo, 6 euro per la Panda, 9 euro per la Tipo, quindi avete un costo di guida veramente basso, con questa novità che Autofrancia vi propone, quindi il noleggio dedicato a voi privati, quindi avete tutti i benefici del noleggio a lungo termine, ma avete il vantaggio di avere l'auto di vostra proprietà, quindi siete nella massima libertà. Quindi come vedete le soluzioni all'Autofrancia non mancano, poi come sempre potete pagarle per contanti se volete, ma veniteci a trovare, perché parlando con i nostri professionisti, veramente è una soluzione davvero davvero interessante da cogliere per questo mese. Vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino, siamo aperti 7 giorni su 7, ormai non avete più scuse, veniteci a trovare perché non rimarrete delusi. Vi aspettiamo!